Salve a tutti bella raga e benvenuti in questo nuovo video Finalmente sono a casa Vedete come mi sono abbronzata, sono detta abbronzata Sono tutto il time, tutto il time Va bene, e ho cambiato pure la voce Perché sapete, ho fatto il compleanno E ho cambiato la voce, sì Però sono sempre bassa Comunque, andiamo solo E adesso, proprio adesso Faremo, come si dice Fare una nuova parodia Di una persona che ho visto Giustamente perché guardandosi i youtuber Si vedono tante parodie e tante cose E spero tanto che vi piacerà questo video Del nuovo youtuber Cioè, nel senso, no, nuovo youtuber Nel senso, della nuova parodia E un bambino Che praticamente parlava di Gemini Queste cose qua come fanno sempre al solito Comunque, buona visione Lasciate tantissimi like E ringrazio a tutti quelli di là E se sei cento iscritti Ringrazio per essere arrivata a seicento E seicento iscritti Vi ringrazio di vero cuore a tutti E scrivetevi di più Così almeno raggiungerò la soglia Come alberico Yes E tutti gli altri Comunque, iniziamo E buona visione Fuffo di capelli Che si alza in Vedo che, giustamente, il tuo ciuffo Così in continuazione Beh, io posso dire la mia Perché i capelli li porto così E quindi non so Si capisci Il tuo guinese Come lo pago io ne E io Cioè, ogni tanto diventa così pure il mio Sì Però io ti consiglio Esclusivamente di metterti la lacca Perché se ti metti la lacca Così, guarda Ti arrivano subito così Così almeno il ciuffo In continuazione non ti diventa così Vediamo di giorno Posso farci i propri video così Qua sotto nei commenti Voi dovete scrivere Che se volete essere salutati In un vlog E mi fate cuore un Inizio pure il vlog Vai Inizia fatelo Inizia con questo vlog Vai forza Su forza E vi saluterò E ne saluterò solamente due Sì Giovanni Perché Lui ne saluterò solamente solo due Ma due Di che cosa due Due Verso le due Fare il video verso le due Cioè Non ne abbiamo capito Neanche Giovanni ha capito Cioè Giovanni Giovanni Verso le due Che cosa Se vedrai tutte le due Che cosa Fatti capire Mi raccomando Commentate Voi sarete E vi commenterete A questo vizio qua Che dicevi commentare Qua sotto E prima di commentare E commentate Poi ricommentate Poi rispondete E poi ricommentate Questa La logica Avete capito qualcosa Oppure non avete capito Niente Super giù Ditemi Delle challenge Tutte queste cose così Basta che me lo dite E io In tempo record Ve le metterò Su questo Canale Avevo già Un progetto Di fare E E la Con le caramelle Schifo Schifosissime Ma proprio Schifosissime Le caramelle Schifose Super schifose Al mondo Cioè ci sono Però Abbiamo capito Che fanno schifo Le abbiamo capito Sì Proprio Hai capito Giusto Fanno schifose Schifose Super schifose In tutto fa schifose Schifosissime Super schifosissime Beh io sono in compagnia pure Però no Deve essere fatto Ma sciambroso Di questo Di questo Ritulone Sì Solo di questo Basta Ma voi sei Volete Voi Portare Che vi porto Su questo Canale La FIFA 14 Retro Foot Tu lo sai Non lo sappiamo Fai quello che Che vuoi Per Uscibili senza E continueremo Questo Magnifico Ma Magnifico Speciale 5 Beh Io credo Beh Se tornerai E Faremo altre Cazzotte Questo Ho da dirti Continua così E adesso Fine Della cosa Spero che vi è piaciuto Questo video Tantissimi like E Condividete Se volete Se volete Capito Giovanna Sì Capito Avesse lei capito Quello che io ho detto Ciao Giovanni Mi raccomando Salutatelo sempre Allora Adesso passiamo All'altra cosa Che ho promesso di salutare Perché hanno creato un gruppo Di me Giustamente E Donisala Vi ringrazio Guardate Una foto Che mi ero fatta con la cantante In un gruppo Veramente Veramente Bello Sempre la stessa Allora Voglio fare un saluto Giustamente A Aurora A Maria Chiara Ciao Maria Chiara Maria Chiara Non usciva la parola Un saluto di nuovo A Miriam Ciao Miriam Aurora Sofia Poi Volevo salutare A tutti i youtuber Brickupess Alberico Yasse Pantacross E Favi DJ Tutto ok Questo è il mio dettaglio Insomma Ci sono delle rime che faccio Mazzola e Nicola Li saluta Giustamente E Niente Torniamo Con il prossimo video Bella raga Alla prossima parodia Mi raccomando Tantissimi like E tante cose belle Tornerò con i nuovi video Mi raccomando Non vi muovete di lì Capito Parola di Mazzola E pure una cola Ciao